Un artigiano lucchese in coma da 10 anni è stato sanzionato dall'Agenzia delle Entrate per una somma di 74.312 Euro, pari al 3% del risarcimento danni per un incidente subito e per altri mai riscosso. La famiglia ha dovuto fare ricorso per evitare la beffa, quella cioè di pagare un'imposta di registro su una somma mai percepita. È una notizia affittata questa settimana che però pochi hanno commentato. Eppure interessa a molti perché svela la forza oppressiva esercitata dallo Stato sul contribuimento debole, cioè quello che non ha mezzi per difendersi e c'è un particolare meccanismo che sta alla base di questa forza oppressiva ed è il cosiddetto onere di prova, un onere che spetta non allo Stato che ti chiede soldi, ma al contribuente che deve pagare. Per cui alla fine della fiera è il contribuente stesso che deve dimostrare, se ne ha i mezzi, la propria innocenza fiscale. È accaduto per l'artigiano in coma che in questo caso ha potuto evitare la beffa, dopo il dolore, sia pure in modo del tutto inconsapevole considerando lo Stato infelice in cui si trova. Ma quanti contribuenti hanno il coraggio di opporsi al potere invisibile ma mai neutro dello Stato? E quanti soprattutto hanno i mezzi per assumere un professionista e chiedere giustizia?